Un nuovo caso ci attende. Vi presentiamo Simon Coleman. Il mondo della televisione francese accoglie una vincente nuova serie crime, Simon Coleman. In arrivo nel 2024, la serie segue la vita del protagonista, Simon Coleman, mentre si destreggia tra le complessità del crimine e della giustizia. Simon Coleman promette agli spettatori un viaggio emozionante pieno di suspense, intrighi e lo sfondo pittoresco di Aix-en-Provence. Preparatevi a essere catturati dall'enigmatico Simon Coleman e dalla sua incessante ricerca della verità. Simon Coleman ha rapidamente attirato l'attenzione per la sua trama avvincente e il cast di alto livello. La serie ha debuttato con recensioni positive, con i critici che hanno elogiato le sue trame intricate e la performance dell'attore protagonista. Gli spettatori sono stati conquistati dalla miscela di elementi classici del genere crime, con l'atmosfera unica del sud della Francia. Simon Coleman ha offerto una nuova prospettiva sul genere, affermandosi rapidamente come un must per gli appassionati di crime. Dalla tragedia al trionfo, il viaggio di Simon Coleman ha inizio. Al centro di Simon Coleman c'è il suo protagonista, un esperto capitano di polizia parigino. Simon Coleman è un uomo che si distingue per la dedizione alla sua carriera e per l'incessante ricerca della giustizia. Il suo acume e i suoi anni di esperienza lo hanno reso una forza formidabile all'interno della polizia parigina. Tuttavia, il destino gli riserva un duro colpo quando lui e la sua famiglia sono coinvolti in un tragico incidente. Questo evento che gli cambia la vita costringe Simon a rivalutare le sue priorità. Alla ricerca di un nuovo inizio e di un'occasione di guarigione, Simon decide di lasciarsi alle spalle le strade frenetiche di Parigi. Accetta un trasferimento nella più tranquilla, ma altrettanto intrigante, Aix-en-Provence. Lasciandosi alle spalle i ritmi familiari della sua vita parigina, Simon intraprende un nuovo capitolo. Il trasferimento ad Aix-en-Provence segna una svolta significativa nella vita di Simon, sia sul piano personale che professionale. Aix-en-Provence, un nuovo inizio e nuove sfide. Aix-en-Provence, con le sue strade affascinanti e le piazze assolate, offre a Simon un netto contrasto con il paesaggio urbano a cui è abituato. Nota per la sua ricca storia e la sua vibrante cultura, Aix-en-Provence fa da sfondo unico alle indagini della serie. Il passaggio di Simon dall'ambiente frenetico della polizia parigina, all'atmosfera più rilassata di Aix-en-Provence, non è privo di sfide. Si ritrova ad adattarsi a una nuova squadra, a nuove procedure e a un ritmo di vita completamente nuovo. I casi che si trova ad affrontare ad Aix-en-Provence sono complessi e diversificati come quelli che ha gestito a Parigi, spesso intrecciati con il tessuto sociale unico della regione. Nonostante le sfide iniziali, Simon inizia gradualmente ad apprezzare il ritmo più lento e il fascino della sua nuova casa. Destreggiarsi tra giustizia e paradiso. I conflitti di Simon Coleman. Simon Coleman intreccia magistralmente intricati casi criminali con il percorso personale di Simon. Ogni episodio presenta a Simon un nuovo enigma da risolvere, costringendolo spesso a confrontarsi con i lati più oscuri della natura umana. Mentre Simon si addentra nella malavita di Aix-en-Provence, incontra la resistenza di coloro che preferirebbero tenere sepolti i propri segreti. La sua incrollabile ricerca della giustizia lo mette spesso in contrasto con personaggi potenti, portando attesi scontri e alleanze inaspettate. Nel corso della serie, Simon si confronta con il peso emotivo del suo passato e con la complessità del suo presente. Simon Coleman esplora temi come la perdita, la redenzione e la resilienza dello spirito umano. Il tutto sullo sfondo accattivante della Francia meridionale. Sezione 5. Un cast di personaggi. Dare vita al mondo di Simon Coleman. A dare vita al personaggio di Simon Coleman, è l'acclamato attore francese Jean-Michel Tinivelli. L'impressionante carriera di Tinivelli, spazia dalla televisione al cinema, con ruoli di rilievo in popolari produzioni francesi. È noto soprattutto per il ruolo da protagonista nella longeva serie Crime Alice Nevers, Le Juge Estune Femme, in cui interpretava il comandante Frederic Marcond. L'interpretazione di Simon Coleman da parte di Tinivelli è al contempo sfumata e accattivante, e mette in mostra la forza, la vulnerabilità e la ferrea determinazione del personaggio. Porta una profondità emotiva al ruolo, consentendo agli spettatori di entrare in contatto con Simon a livello personale. La performance di Tinivelli è senza dubbio uno dei punti di forza di Simon Coleman, che con il suo innegabile talento fa da perno alla serie. Sezione 6. Il fascino intramontabile di Jean-Michel Tinivelli. La carriera di Jean-Michel Tinivelli è caratterizzata dalla sua versatilità e dalla sua capacità di incarnare una vasta gamma di personaggi. Le sue interpretazioni gli sono valse il plauso della critica e una fedele schiera di fan in Francia e non solo. La presenza di Tinivelli in Simon Coleman aggiunge un significativo strato di prestigio alla serie. La sua esperienza nel genere crime traspare dalla sua interpretazione di Simon Coleman, che lo rende un detective protagonista credibile e coinvolgente. La dedizione di Tinivelli al suo mestiere è evidente in ogni scena, quando si cala nel ruolo, dando vita a Simon Coleman con autenticità e profondità. Sezione 7. Un cast di supporto di volti noti. Ad affiancare Tinivelli in Simon Coleman c'è un cast corale di talento, ognuno dei quali apporta una propria dinamica unica alla serie. Il cast di supporto è composto da un mix di affermati attori francesi e astri nascenti, creando un ricco arazzo di personaggi che popolano il mondo di Simon. Tra questi, la stimata attrice, nome dell'attrice, nota per i suoi ruoli incitare alcune delle sue opere più importanti. Che interpreta? Nome del personaggio. Descrizione del personaggio. Il suo personaggio aggiunge un ulteriore livello di complessità alla narrazione, in quanto diventa fondamentale per aiutare Simon a districarsi nelle complessità del suo nuovo ambiente. L'alchimia tra gli attori è palpabile, rendendo le interazioni tra i personaggi genuine e coinvolgenti. Sezione 8. Il fascino di Simon Coleman. Simon Coleman offre una vincente miscela di crime procedurale, dramma incentrato sui personaggi e la bellezza paesaggistica della Francia meridionale. La serie si addentra nelle complessità delle indagini di polizia, esplorando al contempo le lotte personali dei suoi personaggi. Il pittoresco scenario di Aix-en-Provence aggiunge un tocco unico alla serie, distinguendola dagli altri crime ambientati in contesti urbani frenetici. La combinazione di una narrazione avvincente, di interpretazioni di alto livello e di una splendida fotografia, crea un'esperienza visiva immersiva, che tiene il pubblico incollato allo schermo. Simon Coleman si è ritagliato con successo una propria nicchia nel genere crime, affascinando gli spettatori con la sua miscela unica di elementi. Sezione 9. Perché dovreste guardarlo? Simon Coleman è una serie imperdibile per gli appassionati di crime che apprezzano personaggi ben sviluppati, trame intricate e un tocco di stile europeo. La serie offre un rinfrescante cambio di passo rispetto ai tipici crime procedurali crudi, trasportando gli spettatori nell'affascinante e soleggiata regione della Provenza. Alla sua base, Simon Coleman è una storia di seconde occasioni, di resilienza e di rinforzamento.